La partnership tra Bargene e Bocconi, ma anche con la Società Italiana di Neurologia, parte da lontano. Ormai sono quasi un decennio che collaboriamo con queste due istituzioni e abbiamo istituito un percorso che voleva mettere insieme competenze e saperi diversi, quindi la competenza neurologica, la competenza dei direttori generali sanitari e poi successivamente anche quella degli infermieri che operano in strutture sanitarie per definire i percorsi ottimali per queste patologie neurologiche. Noi siamo da sempre, da tempo, impegnati nell'ambito delle neuroscienze, è lì che nasciamo, ben 42 anni fa, nasciamo da due premi Nobel e abbiamo sempre voluto offrire oltre ai nostri prodotti anche servizi di valore e riteniamo che questo sia stato e sia un servizio che possa portare nuove conoscenze e nuovi aspetti nell'ambito della neurologia italiana. Questo progetto si chiama e si chiamerà Neuromanagement Lab o Neurom Lab e metterà chiaramente intorno a un tavolo gli attori, i deputati a voler cambiare le cose che abbiamo visto che durante la pandemia non hanno forse al meglio funzionato. Questo progetto nasce anche questo sulla base della storia che abbiamo costruito con Sdabocconi, ma anche con la società italiana di neurologia ed è legato anche a quanto è successo recentemente, quindi la pandemia di Covid-19, dove abbiamo capito e compreso, questo lo dicono tante ricerche di mercato, che in buona sostanza il rapporto tra medico e paziente, soprattutto quando ci si occupa di pazienti sostanzialmente cronici e con una determinata fragilità non basta più il rapporto consueto, quindi di visita face to face tra il medico e il proprio malato ovviamente. Quindi servirà una modalità diversa e questo abbiamo, insomma, anche grazie a tante ricerche, abbiamo capito e individuato che il sistema deve cambiare e che chiaramente il concetto di proximity care o di home care, quindi della gestione del paziente in remoto avrà un peso sempre più avanzato e sempre più importante anche nei prossimi anni. In questo contesto vogliamo chiaramente anche noi inserirci e provare insomma insieme appunto a SIN e all'Astabocconi a individuare che cosa potrà cambiare, quindi favorire dibattiti e scambi di opinioni in merito a questa sanità che dovrà cambiare soprattutto nei confronti di quei pazienti cosiddetti cronici ad alta complessità.